Le presunte apparizioni mariane a Medjugorje, la questione degli abusi sui minori e le recenti dimissioni dalla relativa Commissione Vaticana di Mary Collins, la Fraternità San Pio X, i momenti più significativi del suo XIX viaggio apostolico nel santuario di Nostra Signora di Fatima in occasione del centenario delle apparizioni della Beata Vergine alla Cova d'Airia. Sono questi alcuni dei temi trattati da Papa Francesco durante la consueta conferenza stampa sul volo di rientro con i giornalisti al seguito. In oltre 30 minuti il Pontefice ha ribadito che Fatima porta con sé un messaggio di pace rivolto all'umanità e che la canonizzazione di Giacinta e Francesco è stata una grande felicità personale e una speranza per tutti. Il tema della pace ha introdotto poi una domanda sull'incontro con il Presidente statunitense Donald Trump il 24 maggio prossimo e sulle aspettative che il Pontefice ha riguardo a questo appuntamento. Non si può esprimere un giudizio su una persona senza prima averla ascoltata, ha detto Papa Bergoglio, rimarcando che ci sono sempre porte che non sono chiuse e che quella è la strada del confronto per costruire una pace artigianale. Ampia poi la risposta sulle presunte apparizioni a Meggiugorie, riferendo soprattutto che la commissione preseduta dal Cardinale Camillo Ruini ha fatto un lavoro accurato. Se sulle prime apparizioni o presunte tali si deve continuare a investigare, sulle ultime il Pontefice ritiene, secondo un'opinione personale, che ci siano dubbi. La Madonna è madre, ha detto, e non una Madonna capo ufficio telegrafico, che tutti i giorni invia un messaggio a tale ora. Resta tuttavia importante l'aspetto pastorale, ha concluso Papa Francesco, per le tante conversioni che avvengono in questi luoghi.